Andrea Pellicini, oggi in aula si è aperto un dibattito anche sulle province, sul ritorno alle province, commenti di primo livello e finalmente il voto al popolo. Quando avverrà questo? Perché si sente la necessità? Sì, sono intervenuto proprio questa mattina nel dibattito in aula. Si discuteva sul ripristino dell'elezione diretta nelle province del Friuli Venezia Giulia. Oggi il Friuli Venezia Giulia non ha province sostanzialmente, ha un voto di secondo livello e quindi si chiedeva di tornare al voto diretto. Io sono intervenuto come altri colleghi, non solo della maggioranza, ma anche con colleghi di AVS, ad esempio, per chiedere il ripristino del voto diretto nell'elezione dei consiglieri provinciali del Presidente della provincia. Questo perché il 29 settembre abbiamo votato in provincia, ma più di 800 mila cittadini non sapevano che ci fossero le elezioni provinciali. Cioè è uno scandalo perché il cittadino deve sapere chi va a amministrare le pubbliche risorse. Io ho fatto l'assessore della provincia di Varese per otto anni e so benissimo cosa vuol dire. Anche perché la provincia di Varese è una provincia complicata dal punto di vista geografico e anche sociale e quindi la provincia ha parecchie competenze per le cittadini. Sì, tra l'altro ho risposto ad esempio in aula all'intervento dell'onorevole Marattin che diceva alla fine oggi le province hanno tolto le province molte competenze, sono rimaste alle province scuole e viabilità. Come se fosse poco, anche io quando facevo l'amministratore della provincia, i tre quarti del bilancio provinciale erano destinate all'edilizia scolastica e alla viabilità provinciale. Però la provincia di cui ho fatto parte io con le presidenze di Marco Reguttori e Dario Galli era una provincia efficiente che sistemava le scuole e sistemava le strade. Ora, come se fosse poco a questo punto di vista, a me basterebbe avere competenza con consiglieri e presidenti eletti che vanno a amministrare queste risorse che sono fondamentali. Poi anche tutte le altre competenze, la delega, le politiche del lavoro, la formazione professionale, le istruzioni, quelle le province devono recuperarle perché bisogna gestire le risorse il più vicino possibile ai cittadini. Però già se fossero soltanto scuole, istituti superiori e viabilità, anche da questo punto di vista, devono amministrare i cittadini attraverso i loro rappresentanti. Anche perché chiudiamo con un'ultima domanda. Ricordiamo che l'ultima scuola in provincia di Varese l'ha costruita proprio Villa Recalcati, che è stato il nuovo liceo classico di Busto e le strade sono più di 700 chilometri, quindi se qualcuno le deve manutenere, questa è la provincia, giusto Pellicino? Assolutamente, assolutamente. Quindi io ricordo anche ad esempio il Falcone di Gallarate, una scuola avveniristica da questo punto di vista. Quindi la provincia, almeno la provincia che ho conosciuto io, che è quella di Varese, era un ente efficiente che non doveva essere depotenziato. Oggi la provincia, se vogliamo affrontare il tema di oggi, è sempre un ente che ha degli ottimi dipendenti, eccetera, però comunque è depotenziato. Di semplice fatto che non c'è un'elezione diretta, questo determina che la provincia sia amministrata da un presidente, al quale io voglio bene e non ne posso parlare assolutamente male in questo momento, che è Marco Magrini, anche se siamo fieramente alla sua opposizione. Però, cioè, non ci fosse questo sistema elettorale, in questo momento la provincia di Varese, che è fortemente di centrodestra, avrebbe sicuramente un presidente di centrodestra con una missione specifica, che è la politica di solito del centrodestra, che è quella di realizzare opere pubbliche e fare bene, come ai tempi tra il 2002 e il 2010. Per il resto faremo opposizione, di sicuro, al presidente Magrini, in provincia sicuramente noi e la Lega, quanto meno, e cercheremo di farla bene, la faremo in modo costruttivo. Io ho detto al presidente Magrini che a me interessa che la provincia abbia un ruolo di primo priano nello stimolare la realizzazione e il completamento della strada della Vergiatese, della Sesto Calende, della Vergiate-Besozzo, perché quella è un'arteria fondamentale per la provincia di Varese. Già una rotonda è stata realizzata verso Vergiate e si vede già la differenza. Dobbiamo completare questa strada. E su questo devo dire che il presidente Magrini è d'accordo. Grazie. 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 Grazie.